Amici di calciomercato.com, Milan primavera, Bola Ginevra per le Final Four di Wifi Youth League, scopriamo i talenti delle altre squadre impegnate della competizione. Partiamo dai primi avversari dei rossoneri di Abate, l'Aidux Palato, e partiamo dal più giovane della compagnia. Luca Vuscovic, difensore centrale classe 2007, ha già addosso gli occhi di mezzo Europa. I rossoneri lo hanno seguito nei miei discorsi, ora su di lui sono fiombati Paris Saint Germain, Manchester City, Real Madrid, per un'asse internazionale pronta a scatenarsi a cifre già importanti superiori ai 12 milioni di euro. Due gol in sole quattro presenze in questa youth league segnali come sia anche una minaccia offensiva. Le minacce offensive lo sono sicuramente gli attaccanti, lo è sicuramente Rodrigo Ribeiro dello Sporting. Sei gol in otto presenze per l'attaccante classe 2005, si è già facciato anche la prima squadra. Lo Sporting sa di avere un talento per le mani, allora l'ho blindato con un contratto fino al 2025 con opzione per altri due anni, fino al 2027. 2027 è la scadenza di contratto di un altro bomber della competizione, Max Mervink. Classe 2003 della Zeta Armar, anche lui si è già visto con la prima squadra, anche contro la Lazio in Europa League. Sono sette i gol in cinque presenze in questa youth league. Avviso ai difensori avversari, il giocatore da tenere dopo. Grazie. Grazie. Grazie.